Eccoci qua con Avanzino e Ottogalli della Dinamo Fonta, non ce l'avete fatta vincere questa finale del torneo dei bar qui a Torriglia? È stata però una partita molto combattuta, molto equilibrata, è finita 2-1 per loro, alla fine avete sfiorato il pareggio, non ce l'avete fatta? Fatemi un po' un commento di questo torneo, ecco. Loro molto bravi, bravi tutti, loro superiori, abbiamo giocato molto bene, a tratti meglio di loro, sicuramente, però è andata così, abbiamo preso diversi pali, però bravi loro, complimenti a loro, nel secondo anno di fila si confermano campioni. Dimmi qualcosa anche te? Ti dico, giocano tutti a pallone quegli altri, noi siamo meglio cappati di cacca, qualche d'uno gioca, qualche d'altro. Beh, la partita è stata però molto equilibrata, come avete detto, è stato molto... Siamo un gruppo di amici, facciamo tanti tornei, però vediamo di vincerne uno quest'estate, perché perdiamo sempre in finale. Sì, dai, abbiamo 15 coppette da secondi, ma io la prima, però arriverà la prima. Sì, dai, prima o poi arriva. Dai ragazzi, complimenti comunque!